Ci sarà la possibilità di creare e dare libero sfogo alla propria vena artistica presentando le opere sino al 3 maggio grazie al concorso Crea e Colora le Vare 2020, premio d'arte Francesco e Vincenzo Biangardi. Indetto dall'Associazione Giovedì Santo è realizzato sotto l'alto patrocinio della Diocesi e il patrocinio gratuito del Comune Nisseno. Quello di quest'anno è un Giovedì Santo diverso dal solito, soprattutto per i Nisseni, che attendono questo giorno per ammirare i gruppi scultori che rappresentano i momenti della passione e morte di Gesù Cristo, in processione per le vie della città, ma questa volta non accadrà. Da casa ci si raccoglie in preghiera, avendo l'opportunità di seguire il differente programma dovuto al particolare momento storico, tramite le dirette, social e perché no, rivivere la tradizione attraverso l'arte. Un'iniziativa rivolta agli amatori e agli appassionati di ogni età che potranno presentare un massimo di tre opere inedite legate al tema della processione del Giovedì Santo, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al video, persino opere realizzate attraverso l'arte virtuale e multimediale. Dopo la fase di preselezione degli artisti da parte del comitato organizzatore, i lavori verranno sottoposti al giudizio di una giuria, che selezionerà i primi tre classificati di ogni categoria. Essa ancirà anche il vincitore del premio d'arte Francesco e Vincenzo Biangardi. Le opere selezionate come finaliste saranno esposte durante una mostra collettiva nella sala espositiva dei gruppi Sacri Vare di Caltanissetta e al termine si procederà alla cerimonia di premiazione dei vincitori.